L'ASL ha certificato che la carne di cinghiale a sanse sul massiccio del cervati è sicura e controllata. E' infatti questo l'esito dei numerosi controlli effettuati nelle ultime settimane dal servizio veterinario dell'ASL di Salerno sui campioni analizzati relativi ad animali abbattuti da caccia selettori nel comune di Sanza. La caccia al cinghiale è controllata dal servizio veterinario dell'ASL secondo le norme del Piano regionale di controllo sanitario dei cinghiali e vigilanza delle altre specie selvatiche finalizzato all'individuazione di patologie specifiche del cinghiale o che interessano anche altre specie di animali domestici o che addirittura possono essere direttamente trasmesse all'uomo. Queste indagini vengono effettuate non solo sui cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria, secondo il calendario ma anche sulla fauna selvatica rinvenuta morta inviata all'Istituto Zoo Profilattico. Si tratta di un lavoro prezioso e importante che certifica la non presenza nelle carni di cinghiali abbattuti di larve di trichinella, un parassita vermiforme che migra nel tessuto muscolare e diventa infestante. Le carni di cinghiale dunque successivamente all'esito dell'esame possono essere consumate dall'uomo. La sovrappopolazione dei cinghiali dà problema per gli agricoltori, può quindi essere viceversa una risorsa per il patrimonio agroalimentare della comunità di Sansa e della campagna più in generale. I cinghiali abbattuti infatti vengono sempre controllati dal punto di vista igienico-sanitario all'atto della macellazione e dunque si può valorizzare la carne con una filiera che la certifichi con conseguente salvaguardia per la salute umana.